Allora qualcuno dice se io voglio considerare un diagramma e qui ci metto il livello di pressione antropica se io mi muovo da qua a qui sta aumentando il livello di pressione antropica, immaginiamo un diagramma, va bene? Quindi io posso immaginare un bosco e devo considerarlo come un ecosistema naturale. E quindi faccio l'esempio, comincio dove il livello di pressione antropica è zero o nullo, è difficile trovare, esistono veramente questi ambienti in cui l'impatto o il disturbo antropico potremmo recuperarlo a zero? No, quelli che vediamo boschi per noi sono l'immagine, una sembianza di natura vera, ma in realtà quei boschi sono martoriati da secoli di disturbi, tagli, pascoli, quindi di natura vera in Europa non ce ne abbiamo più. È una natura che ha un grande valore di naturalità, ma è tutto dovuto a questa continua interferenza uomo con le sue cose, con le sue attività, con la natura. Certo, ci sono dei piccoli tasselli di ecosistemi naturali sul Gargano, ma dobbiamo andare nei posti inaccessibili dove l'uomo non è riuscito ad arrivare, possiamo andare sulla catena penninica a trovare dei tasselli, ma li chiamiamo, tant'è che oggi abbiamo cercato di far parte di una rete di tasselli di natura che è rimasta in Europa e sono nati i famosi SIC, l'avete sentito parlare, i siti di interesse comunitario, cioè l'Europa ha detto vediamo di farci questa rete di tassellini che almeno li conserviamo, anche per ragioni o per bisogni esclusivamente scientifici, ma quindi, ripeto, per comodità diciamo ecosistemi naturali, ma è bene precisare cosa intendiamo. Di natura vera dobbiamo andare nelle foreste tropicali, lì troviamo esempi ancora di natura vera, ma è anche vero che parliamo quando diciamo Europa, diciamo un ambiente che ha subito disturbi antropici da tempi troppo lontani, almeno da 10.000 anni che interferiamo con quello che era di natura, per cui oggi ci è pure difficile immaginare come potrebbe essere un ecosistema naturale, riusciamo a immaginare almeno la fisionomia, diciamo che dovrebbe essere un bosco, ma quale bosco con quale specie? Qui in Puglia non ce ne abbiamo più, ci avete questi testimoni, queste querce villonee, queste querce spinose, sono i testimoni di queste, esatto, come foreste primarie, primigenie, dovremmo dire, primigenie, e abbiamo i testimoni, i fossili biologici di queste foreste planizzali che caratterizzavano, poi la Puglia è l'emblema, è la regione proprio delle querce, dal Gargano al Salento, ce ne sono tantissime specie, che però ci rimangono, invece poi dobbiamo dire, tutto il resto sono, vedete, io uso sta parola, quindi uno, due, agro ecosistemi, agro, quindi l'uomo e il suo campo coltivato è un vero e proprio agro, un vero e proprio ecosistema, qual è la differenza? Che questo si mantiene da solo, questo l'ho creato io, l'ha creato il contadino, e si mantiene tale solo con i continui input, qua ci scriverei input energetici, certo l'albero di olivo, la fotosintesi la fa lui, non la faccio io, però gli devo portare il concime, gli devo portare l'acqua, quindi è un ecosistema che si mantiene perché sono io che gli devo dare continuamente input energetici, già il fatto che devo arare, devo portare il concime, devo dare acqua, devo proteggere le piante dalle culture, quindi è un ambiente del tutto artificiale, anche se per noi è un'immagine di natura quell'oliveto, da solo l'oliveto non si mantiene, chiaro questo? E questo ci deve cominciare a far pensare che le nostre erbe eduli stanno qui, non stanno qui, lo vedremo strada facendo, come in realtà poi quindi siamo stati noi indirettamente a favorire queste erbe eduli, la cicorietta, la rucula, non la troverò in un bosco, la trovo in un campo coltivato, anche la cicorietta non la trovo in un bosco, la troverò in un altro campo dove magari il livello di pressione è minore, ma è sempre lui. Ci siamo agroecosistemi, volendoli potremmo dividere, sempre sta aumentando il livello di pressione antropica, potremmo dire agroecosistemi agricoli, sto aumentando ancora agroecosistemi rurali, sta aumentando il livello di pressione, questo è questo, noi dove stiamo secondo me? sta aumentando la pressione, quindi in queste realtà io collocherei i nostri agroecosistemi qui, dove il livello di pressione è diciamo modesto, però qui fate impianti specializzati di ciliegie, quindi sono monoculture, una volta la campagna era caratterizzata che nello stesso campo io ci facevo la vigna, poi ci mettevo il ciliegio, ci mettevo il pesco, ecco l'agrobiodiversità, oggi tendiamo a passare più verso questi e sono quelle che potremmo chiamare le agricolture intensive, quindi noi che cosa abbiamo fatto in questi 50 anni? Abbiamo abbandonato questi e siamo andati verso questi perché l'obiettivo era intensificare le produzioni, produrre di più, guadagnare di più per questi poveri contadini, l'unica strategia era questa, intensificare la produzione e siamo arrivati che questi modelli hanno funzionato per 30 anni e oggi una ciliegia la devono pagare un chilo, gliela daranno a 30 centesimi, quanti gliela pagano? Niente, quindi costa oggi, costa più un chilo di rifiuti per smaltire un chilo di rifiuti, oggi un chilo di rifiuti costa 0,25 centesimi al chilo, pomodori li pagano anche a 10 centesimi al chilo, quindi ha il più il valore del rifiuto che noi andiamo a buttare, che dobbiamo smaltire, che non il prodotto finito, quindi questo ci deve far riflettere che abbiamo abbandonato tutto quanto questo, per sostituirli con questi abbiamo abbandonato tante realtà della nostra penisola, della collina, delle aree interne, per concentrarci tutto su queste pianure, è un modello che ha funzionato, ma ha funzionato per 30 anni, perché oggi già non rendono più e quindi c'è una ripresa di interesse verso questi, perché hanno funzionato invece molto tempo, hanno funzionato da secoli, con il loro modello di biodiversità, con la diversificazione culturale spinta al massimo, quindi la scienza oggi sta dicendo che dobbiamo studiare un po' meglio questi perché ci possono insegnare tante cose di come potrebbe funzionare quello che cerchiamo oggi che si chiama agricoltura sostenibile, questo è che cerchiamo, perché questo non solo poi non ci ha dato quei benefici che ci aspettavamo, il contadino che ci aspettava, questi hanno avuto un grande impatto sull'ambiente, in termini di inquinamento, di falde, di residui sui prodotti stessi che mangiamo, quindi non ha più funzionato, continuo a insistere, ma c'è una riscoperta di questi qua che potrebbero invece insegnarci moltissimo per modellare oggi dei sistemi agricoli che siano compatibili perché questi sono gli ecosistemi che per esempio ci consumano il 70% di acqua del pianeta, di acqua dolce, quindi non è che siamo noi che sprechiamo tanta acqua, sono quei modelli di agricoltura che consumano fino al 70% di acqua dolce che oggi vedete siamo arrivati nessuno lo pensava 30 anni fa 20 anni fa che ci dobbiamo andare a comprare l'acqua perché l'acqua è diventato un bene prezioso perché è disponibile in quantità limitata detto l'Italia potremmo ritenerci abbastanza fortunati abbiamo tanti fiumi ma ormai è diventato business vendere acqua se si alza dalla tomba mio nonno e vede che noi compriamo l'acqua pare che siamo caduti in un altro pianeta ma qualcuno lo diceva 30 anni fa non è che non l'hanno detto l'hanno detto economisti l'hanno detto scienziati che saremmo arrivati a questa situazione che cosa ci rimane qual è dove c'è il massimo di pressione antropica qualcuno ha detto esistono gli ecosistemi urbani la città perché poi al di fuori di questi ambiti dobbiamo andare nelle città dove il livello di pressione è al massimo e quindi tutto è un sistema che si mantiene completamente è stato costruito dall'uomo e si mantiene completamente dall'uomo io mi fermo qui facciamo una pausa quindi ecco sono tutti i spunti di riflessione pillolette che vi vogliamo fornire in questo primo incontro va bene se ci sono domande non ti devi preoccupare allora abbiamo detto che l'ecosistema si definisce dalla componente di ossa quindi quando si parla di distruzione di ecosistemi di distruzione di ecosistemi si parla cioè si può sempre comunque parlare di un ecosistema che è stato denigrato e distrutto ma comunque permane il suo statuto di ecosistema cioè ci sono dei casi in cui non si può più parlare di ecosistema siamo stati capaci di creare la città come un sistema un sistema significa che delle componenti sono tra di loro in relazione continua c'è questa interdipendenza tra tutte le componenti cioè noi invece eravamo convinti che potevamo creare un ambiente completamente staccato quello che dicevamo stamattina dalla natura e sì ma sono sempre sistemi aperti questo ci sta insegnando l'ecologia che pure la città gli ecosistemi non sono sistemi chiusi noi adesso stiamo in ecosistema però la finestra la devo aprire perché se no non funziona almeno che non c'è un impianto di aria condizionata ma ci vuole un ricambio con l'esterno quindi l'idea che eravamo così ambiziosi di volerci creare degli ambienti degli sistemi degli ecosistemi completamente staccati dalla natura perché veniamo da una guerra perché una guerra è stata quella di dipendere dalla natura di dipendere dalla natura quindi da quando abbiamo cominciato a fare i primi raccoglitori cacciatori cominciavamo a raccogliere prodotti che ci dava la natura era una forte dipendenza poi ci siamo inventati di essere agricoltori diecimila anni fa ma mica ci ha creato l'autonomia assoluta perché poi sempre il sole ci doveva fare la fotosintesi poi ci siamo inventati le serre la luce ce la metto io siamo arrivati a pensare che anche la città potesse essere oggi grandi architetti si sbizzarriscono a creare città auto che si mantengono da soli e poi arriviamo alla fine che la finestra la devo aprire quindi perché il sistema urbano proprio perché è un ecosistema sono tutti sistemi aperti per definizione l'ecosistema deve relazionare con l'esterno se noi non apriamo la finestra qui stiamo adesso belli comodi tranquilli al fresco ma non possiamo pensare di oppure d'inverno ci siamo inventati i termosifoni proprio per crearci una ulteriore autonomia di non dipendere dalla natura e questo ci ha portato poi a distaccarci completamente tant'è che oggi poi abbiamo questo bisogno sfrenato disperato di natura perché eravamo convinti che potevamo di aver raggiunto una nostra completa autonomia dalla natura ma non funziona perché ripeto scusatemi ma la finestra la dobbiamo comunque aprire perché un po' di aria deve entrare più che una rivalza rispetto alla natura l'uomo ha proprio un'avversione sto notando ho notato in questi anni cioè è diversa la questione cioè è un'avversione che continua e nel tempo adesso sta attaccando anche ha attaccato anche da alcuni decenni i semi quindi c'è proprio una volontà nell'attaccarla cioè non ci sono notizie ma che parte ancora prima è un retaggio ripeto della scienza già da bacone che diceva dobbiamo dominare la natura perché abbiamo di peso per troppo cioè non vogliamo non dobbiamo sentirci tanto cattivi distruttori di natura dobbiamo riflettere che abbiamo almeno una storia di 4-5 mila anni difficile di questa forte dipendenza già se pensiamo ai nostri nonni se faceva una grandinata avevamo perso tutto se c'era uno stress idrico estivo avevamo perso tutto c'era fame noi ci ha perseguitato per millenni secoli questa specie poi qualche altro approfondimento lo faremo la fame le carestie e vedremo come la storia del cibo è la storia di queste lotte umane per difendersi dalle carestie bastava noi producevamo qui se venivamo 50-70 anni fa dovevamo seminare un quintale di grano per poterne raccogliere 6 oggi ne seminiamo uno riusciamo a raccogliere anche 40 perché abbiamo inventato la tecnologia irrigazione proteggere le culture contrattamenti che ci fa aumentare le rese perché l'obiettivo è così noi siamo riusciti a sfamarci noi come guardiamo l'incremento della popolazione in questi 2000 anni la popolazione aumenta man mano che aumenta la disponibilità di cibo questo adesso sono tutti i prezzi che paghiamo sono prezzi che paghiamo da questa disperata lotta di staccare di volerci staccare di voler più dipendere dalla natura e le erbe edule che sono in tutto quanto questo sono qualcuno dice le ultime testimonianze di quando eravamo raccoglitori di prodotti spontanei perché prima che inventassimo l'agricoltura l'uomo era un raccoglitore anzi l'uomo c'era la famiglia era la donna che raccoglieva prodotti spontanei frutti bacche tuberi erbe questi erano e poi il marito era il compagno in questa comunità il compagno era il cacciatore qualcuno ha parlato addirittura in questo tempo che se vogliamo andare indietro è 10.000 15.000 anni fa 20.000 anni fa parlava di società qualcuno parla di società opulente ma sapete quante ne eravamo sul pianeta qualcuno ha stimato noi arriviamo a 5.000 15.000 20.000 anni fa 5.000 opulenta perché perché bastava il lavoro della donna che si limitava per 3 giorni qualcuno ha calcolato a raccogliere erbe tuberi frutti eccetera eccetera si faceva una provvista per 10 giorni qualcuno ha usato anche il termine della grascia non so se si dice anche qui ha letto la grascia quindi un tempo di grande ricchezza che quindi sarebbe bello che io mi limito a raccogliere ciò che la natura mi dà e poi c'è anche la carne perché il cacciatore compagno marito porta carne e quindi bastava il lavoro di 3-4 uomini per uccidere un cervide e il lavoro di una donna per campare una famiglia di 5-6 persone a raccogliere prodotti perché poi non è più perché abbiamo smesso di essere raccoglitori e cacciatori perché evidentemente cresceva la popolazione la disponibilità di cibo diminuiva ecco perché ci siamo inventati dobbiamo capire perché a un certo punto 10.000 anni fa impariamo a fare gli agricoltori inventiamo la prima grande rivoluzione della storia dell'uomo è l'agricoltura quando impariamo a fare gli agricoltori è la vera rivoluzione dicevo che non credo che sia solo il problema dell'aumento della popolazione non è anche che il territorio è stato mangiato super sfruttato per cui vabbè parliamo di migliaia di anni fa io credo che la natura possa dare sufficienza per tutti purtroppo no perché ci dobbiamo chiedere e qui ci sono tante risposte perché a un certo punto questa bella società opulenta non è andata avanti perché è durata parecchio perché quanta è la storia di questo homo sapiens quando noi parliamo di homo sapiens parliamo di una storia che non ha più di centocinquantamila anni ma che ci facciamo sentire fondamentalmente in questi ultimi trentamila anni quindi la società opulenta è durata pure a lungo perché abbiamo fatto per troppo tempo per lungo tempo i raccoglitori e i cacciatori l'agricoltura la inventiamo la testimonianza più antica ci porta nella mezzaluna fertile avete sentito già dei libri di scuola media e ci porta 9.000 abbiamo trovato che questi già coltivavano grano 7.000 anni fa abbiamo trovato che mangiavano già fichi addomesticati recentemente ci portano 8.000 anni fa quindi lì è la testimonianza più antica ma guardate caso non è che poi da lì qualcuno ci ha insegnato a tutto il resto del pianeta poi come si fa agricoltura c'è stata una invenzione policentrica più centri hanno da solo senza comunicare scoperta questa agricoltura e quindi pensiamoci che non è che è stato come oggi una tecnologia che poi subito la inventa la Cina e si diffonde ovunque quando parliamo di questa nuova questa grande rivoluzione avviene in più luoghi e tutti scoprono la stessa tipologia di tecnologia se andiamo nelle Americhe loro l'hanno scoperto 3.500 anni fa hanno cominciato a imparare a fare agricoltura se andiamo in Europa pure in Europa possiamo dimostrare che è stato un altro centro di invenzione di modelli agricoli quindi riflettiamo su questo perché a un certo punto sto uomo perché si deve inventare dice qua non mi basta più essere raccoglito no no non ragioniamo sempre ragioniamo invece con leggi più vere la legge vera è che io non mi basta più campare su quello che raccolgo e caccia questa è quella che ci deve convincere di più no volevo una sua considerazione sugli organismi OGM E' certo dai se tu hai detto l'interno non ci va e dopo ci ricordo a lei facevano un intervento socio-politico io voglio quello che dice che la valutazione è il cambiamento socio-politico in metopotamia cambia la società come la struttura della popolazione cioè di come è gestito c'è un sovrano c'è un suddito mentre le tribù laddove ancora sono esistite come i pigmei si sono ancora sempre basati su un rapporto con la natura di raccoglitori quindi non è proprio diciamo che noi abbiamo avuto bisogno è come ci siamo anche strutturati e sviluppati però stiamo dicendo la stessa cosa quando io dico quello che vi stavo dicendo sto parlando del pianeta terra dove la maggior parte di queste comunità umane ha raggiunto e adesso c'è la Cina c'è tutta l'Asia che supererà perché noi stiamo parlando senza facendo finta che questi non dovranno raggiungere lo stesso nostro livello di benessere perché anche pure loro ce l'hanno il diritto gli asiatici di raggiungere il nostro livello di benessere e il pianeta non basterà più quindi io figurati se non sono d'accordo io vi sto dicendo quelle che sono state le dinamiche perché esiste ancora un 5% della popolazione mondiale che vive come vivevano i nostri aborigini che si è andati in Africa si è andate in Australia ci sono ancora popolazioni autoctone che vivono da raccoglitori cacciatori ma sono il 5% della popolazione noi invece parliamo di un pianeta che ha toccato gli 8 miliardi perché siamo arrivati agli 8 miliardi lo dobbiamo a tutto questo meccanismo che è andato avanti nel tempo e siamo arrivati a 8 se non saremmo arrivati a 8 no io non ti sto dicendo che siamo arrivati a toccare l'api ci sto dicendo tutti i prezzi negativi che questo ci comporta perché però io vi ho ricostruito attraverso il cibo che cosa è successo cioè non so se mi spiego perché dobbiamo capire quali sono state le logiche le dinamiche che hanno innescato e allora il tema delle erbe eduli è la testimonianza di quando noi siamo ancora raccoglitori ecco perché lo stiamo proponendo perché può essere un piccolo segmento che ci potrebbe portare a raggiungere ognuno di noi un'auto un'auto produzione un'auto consumo però bisogna capire fino a che punto perché poi rischiamo anche che estinguiamo le erbe eduli dobbiamo essere obiettivi perché dobbiamo anche capire che le erbe eduli sono a rischio perché questi ambienti sono stati abbandonati questi li cacciano le povere nostre erbe eduli devono usare diserbanze sono i nostri nemici in questi modelli di agroecosistemi che chiamiamo rurali quella è una malerba è un infestante noi ci piaceva dire più commensali che convivono con noi ma l'agronomo sa che ci hanno insegnato quando studiavamo lotta alle malerbe era una materia di esame è vero o no? lotta alle malerbe quindi era un esame che tu dovevi studiare come uccidere perché queste malerbe erano in competizione con il nostro campo con la specie grano se volevamo ottenere i 40 quintali ad ettaro dovevamo uccidere le malerbe perché sennò le malerbe si fregavano il concime e quindi c'è una competizione tra il grano e la malerba che voglio io? il grano? vuoi tanti chicchi? devi uccidere la malerba io sono nudo e crudo perché dobbiamo capire come stanno le cose ragazzi poi possiamo fare tutte le filosofie tutti poi possiamo scegliere ci siamo quindi ecco i pugliesi qualcuno io mi piace ricordarli come gli ultimi raccoglitori neolitici non c'è regione in Italia che mangia erbe spontanee come la Puglia e allora qui ci sono c'è il retaggio proprio di queste comunità umane che c'erano diecimila anni fa che in Puglia ancora ci sono lì c'è andato in ogni realtà campiamo noi di funghi e quanto i funghi ci fanno campare campiamo di lumache come le chiamate ciamariche ciamare 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 poi lo vedremo come esiste nel Foggiano ancora una figura che chiamiamo noi terrazzano è veramente l'ultimo testimone di diecimila anni fa io vi ringrazio facciamo una pausa quello che dicevamo prima fuori vogliamo vedere come può variare il numero di specie considerando quest'altra variabile che è l'impatto antropico man mano che aumenta l'impatto antropico vedete viene fuori questa curva che non va non è una retta che va all'infinito cioè non è che quanto più aumenta l'impatto antropico più aumenta il numero di specie vi spiego vedete questa curva ha un picco massimo e nella storia abbiamo potuto dimostrare che il massimo di numero di specie di biodiversità l'abbiamo raggiunto con le agricolture dei nostri nonni dei nostri bisnonni come volete e poi già da allora con gli ecosistemi agricoli rurali dove è aumentata questa intensificazione ecco subito è cambiata la tendenza questo è importante sapere e fissare e quindi le erbe eduli erano un elemento di questa biodiversità tipica degli agroecosistemi che al massimo hanno convissuto i nostri nonni non hanno mai rappresentato un problema diciamo che hanno le chiamavamo infatti una volta specie commensali che stavano con il contadino le sopportava se no la rucola non sarebbe rimasta sopravvissuta ecco la rucola era una malerba una oppure le lattuquette tutte le insalatine selvatiche che trovate nei campi coltivati hanno le abbiamo accettate cose che non possiamo più accettare oggi in un modello di agricoltura intensiva quindi teniamo presente questo che sta sto grafico ci dice che si cresce ma fino a un certo punto dipende dal tipo di impatto dipende dal modello poi di agricoltura e quindi il massimo l'abbiamo raggiunto qua e per per attoccare oggi i livelli più bassi che li abbiamo nell'ecosistema urbano anche la città è abitata da componente biotica c'è il corvo ci può essere il passero ci saranno tante erbe spontanee tante erbacce quante volte camminiamo nella città e vediamo erbe sui marciapiedi guardiamoci meglio e vedremo che spesso sono tante volte erbe eduli solo che non ci sogneremmo mai di raccoglierle ci dobbiamo chiedere perché stanno nella città lo capiremo nel corso questo grafico noi invece vogliamo vedere come è andata la biodiversità in questi diecimila anni quindi partiamo da livelli molto alti ed è una biodiversità tutta naturale che vedete man mano che da diecimila cinquemila andiamo avanti aumenta e quindi i fautori di questo aumento è tutto uomo con l'agricoltura quindi quando inventiamo l'agricoltura il numero di specie tende ad aumentare anche qui toccherà un picco nell'anno 1000 quindi nel pieno del medioevo e poi da allora comincia piano piano adesso dovrebbe essere un po' così immaginiamolo un po' così siamo ai tempi d'oggi dove questa biodiversità è diventato il problema dei nostri tempi che la stiamo abbassando incredibilmente perché si abbassa perché cambiano gli ecosistemi quegli ecosistemi agricoli tradizionali non ci sono più ce ne sono altri dove dobbiamo a tutti i costi abbassarla perché l'obiettivo è produrre di più fare più quintali di grano più quintali di pomodori eccetera eccetera quindi non tolleriamo più la stessa rucola o la stessa porcacchia come la chiamate la porcacchia porcella non in la perchiazza lo dobbiamo dire in dialetto porcella va bene io mi fermo qui adesso ci facciamo una passeggiata insieme vediamo cominciamo un po' a leggere alle 6 chiudiamo e rimandiamo ah se ci sono delle domande perché è iniziata proprio diecimila anni fa mi chiede facile rispondere perché proprio è aumentata la popolazione quindi se la mettiamo in termini di energia sprecata per cercare una pianta per cercare un animale e quindi per poter mangiare se aumenta la popolazione si fa più fatica a cercarla quindi qual è il ragionamento che è stato fatto se io la devo cercare me la me la coltivo davanti a casa mia e quindi cercare di ottimizzare l'energia è una cosa che fanno tutti gli animali se noi guardiamo i comportamenti la sociobiologia studia proprio questo il comportamento dell'animale che è ottimale cioè cerca di sprecare meno energia di quanto ne deve prendere e quindi l'uomo ha fatto lo stesso discorso sia per la pastorizia e sia per l'agricoltura quindi domesticare erbe quindi erbe che sono state domesticate e quindi coltivate domesticare gli animali e quindi creare il pascolo quindi per avere per sprecare meno energia di quanto ne poteva venire mangiando queste queste erbe selvatico oppure questi animali selvatici quindi diventava più difficile aumentando la popolazione diventava più difficile cercarle queste entità va bene forse così e ci sarebbero arrivati anche gli animali a inventare l'agricoltura se avevano la stessa nostra intelligenza sarebbero arrivati anche loro perché ci dobbiamo chiedere la fornica è quello che noi facciamo quotidianamente se noi dobbiamo andare se dobbiamo fare 100 km mica ci andiamo a piedi abbiamo la macchina prendiamo la macchina questo è il sembra banale però è questo il discorso che è stato fatto quante specie conservano i semi i frutti la formica non fa che la cicala non lo faceva no? perché gli piaceva più canticchiare ma tutte le specie hanno cercato di ottimizzare le risorse di mettersele da parte noi pure abbiamo sicuramente cominciato a metterle ma mettere da parte significa già preoccuparsi che mi devo garantire le riserve per non rischiare quindi chiunque qualsiasi specie con un livello di intelligenza più o meno uguale alla nostra saremmo arrivati perché se no non ci spieghiamo perché gli azzechi a distanza notevolissima da quelli che sono poi le comunità orientali anche loro scoprono l'agricoltura ci è voluto tempo diverso chi ci ha messo chi l'ha fatto 8 mila anni fa chi l'ha fatto 3.500 anni fa chi l'ha fatto 6.000 anni fa a distanze inimmaginabile quindi dove non c'era affatto comunicazione eppure tutti arrivano a scegliersi questa strada a passare attraverso questa rivoluzione ma non è detto che tutti ci siamo passati vi ho detto prima che ci sono ancora un buon 5% della popolazione mondiale che vive come vivevamo noi 10.000 anni fa ma se lo possono permettere lo possiamo fare anche noi adesso ci basterà la Puglia a tutti noi pugliesi che siamo 3 milioni di vivere tutto di autoraccolta autoconsumo adesso però possiamo crearci dei nostri segmenti degli spaccati di di modelli di sistemi di vita perché poi queste sono pure scelte anche di vita che facciamo decidiamo di capitolo erbe spontanee vedete quante implicanze ha o no vi stiamo dando almeno questo messaggio che cosa significa parlare di erbe spontanee parlare di tutto questo va bene allora ci facciamo questa piccola escursione e poi tutto rimandato domani mattina grazie a tutti 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 grazie a tutti